Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il noto cantante Gigi D'Alessio, oltre a utilizzare i social per promuovere la sua musica, si è recentemente espresso riguardo a una tragedia che ha scosso Napoli. Il crollo della vela celeste a Scampia ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre 13, lasciando la campania sotto shock. Dopo aver condiviso immagini della tragedia, Gigi D'Alessio ha dedicato un commovente messaggio alle vittime e alle loro famiglie, esprimendo solidarietà e affetto. Tuttavia non ha nascosto la sua rabbia nei confronti delle istituzioni che avrebbero dovuto garantire la sicurezza dei cittadini. L'incidente a Scampia è avvenuto tra il 22 e il 23 luglio, causando la morte di Roberto Abruzzo e Margherita della Ragione, rispettivamente di 29 e 35 anni. Roberto, macellaio di professione, è deceduto sul colpo, mentre Margherita è morta in ospedale a causa dei gravi traumi riportati. I feriti sono 13, tra cui 7 bambini di età compresa tra i 2 e i 10 anni, due dei quali in condizioni gravi. Questa tragedia, secondo Gigi D'Alessio, poteva e doveva essere evitata. La situazione ha scosso profondamente la comunità e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strutture e sulle responsabilità delle istituzioni. La solidarietà e il sostegno alle vittime sono fondamentali, ma è necessario anche agire per evitare che simili tragedie.